amici di cibo e vintorni amici golosi perché ormai si sa che io sono una golosa ritorniamo in compagnia di Caterina Gambardella ciao Caterina grazie per l'ospitalità anche se ormai manca veramente una manciata di giorni al santo natale e qui insomma si percepisce un po il delirio pre natalizio Caterina Gambardella è l'idiatrice la titolare e la designer di Nero Vesuvio questo marchio di cioccolato esclusivamente fondente come mai Caterina beh il fondente sappiamo che ha delle caratteristiche diciamo importanti è un tonico dell'umore è un antiossidante e quindi noi lo proporremo sempre in questa versione dark ma il cioccolato avete fatto una ricerca anche sul tipo di cioccolato non è un fondente qualsiasi arriva dal allora è un'eccellenza dell'Uganda sì quindi però è anche diciamo un cioccolato che conserva una morbidezza una rotondità è accessibile a tutti quelli che anche quelli che non mangiano il fondente esatto che non preferiscono il fondente qui noi abbiamo una serie di scatole perché il packaging è un altro dei punti forti di Nero Vesuvio sì questo packaging diciamo ha avuto un iter molto lungo perché innanzitutto è stato fatto un termo vassoio per uso alimentare in modo che i cioccolatini fossero messi in una maniera ordinata e non si graffiassero perché è fondamentale questi sono cioccolatini design quindi devono arrivare integri al consumatore ricordiamo anche i quattro simboli per ora sono quattro non si può mai sapere magari se ne aggiungerà qualcuno non lo so può darsi è possibile sì sicuramente c'è l'ex voto il Vesuvio il triplo corno e il San Gennaro e i quattro simboli sono contenuti in una scatoletta piccola da quattro che è questa da quattro cioccolatini possiamo aprirla apriamola no ma dovete guardare aspetta guarda qui questo è un cornetto che chiude un cornino è una cosa deliziosa questo è proprio il tipico omaggio lanciamo un'idea anche per gli amici che hanno delle aziende che sicuramente ci seguono e il gadget che le aziende possono diciamo offrire dentro c'è un po il racconto di quello che è Nero Vesuvio e questa è la scatolina da quattro oppure poi abbiamo visto questa scatola un po più importante da quanti sono 48 sì poi c'è la versione da 96 e quella da quattro vassoi da 192 in generale sono i ristoratori che l'acquistano per darlo così alla fine come chicca a proposito di acquistare non esiste a Napoli un negozio monomarca Nero Vesuvio per scelta voi invece siete appoggiati ad altre attività commerciali che sono insomma che fanno parte un po della storia di Napoli sì noi siamo presenti da Bacarelli in via Carlo Poerio e da Dialetti Vico Satriano e al centro storico dalla famosa libreria colonnese insomma a voi non resta che come faremo adesso noi degustare queste meraviglie nere nere fondenti questi cioccolatini scegliamo io direi che forse il Vesuvio è quello che mi rispecchia tu cosa scegli io scelgo la buona fortuna eh beh anche va bene dai va bene va bene uguale allora intanto noi vi auguriamo buon Natale da parte non soltanto di me che sono una colosa ma anche di Caterina Gambertella assolutamente buon Natale a tutti meno finanziario tutti